2,50 centesimi di euro 1,10 centesimi di euro 3,57 centesimi di euro angelo cosa stai facendo professoressa anche lei fa la spesa qui faresti meglio prepararti per l'esame anziché perdere tempo ma guardi che io sto studiando se vuole le faccio lo sconto no grazie no professoressa io la porto io no grazie sono arrivata vieto qua dietro è inutile che cerchi di corrompermi ma non è per corromperla è una gentilezza sì certo studia angelo studia ma io studio ho un cervello come un'anguria infatti è piccola oh ma vaffanguria professoressa se vuole le do l'aloe vera in omaggio